buongiorno a tutti allora sperando in bene perché oramai non posso neanche dire questo video uscirà perché dipende dai criceti che ho nella dsl e anche nello stesso 4 giga che comunque devo tenere sempre un attimino controllato perché è vero che ho 63 giga al mese ma qua partono 33 giga al giorno praticamente quindi non bastano comunque martedì e mercoledì si riparte con la champion ci sono le partite di andata dei quarti di finale poi avremo modo anche di parlare dei quarti di finale di europa league in cui è rimasto il nostro napoli dico nostro perché squadra italiana nella nella champion c'è la juve ma non posso dire nostra perché solo della juve perché gli altri non lo so per chi ti feranno se saranno indifferenti se gufferanno quindi il napoli non credo che venga gufato più di tanto a juventus dei modi sì io come dico sempre la gufo solo in finale perché almeno posso consolarle veniamo comunque le partite dei quarti di finale l'andata che sono partite a parte una che sembra scontata le altre si potrebbero sembrare scontate ma attenzione perché le sue imprese sono sempre dietro l'ancolo partiamo con la prima partita che è tottenham city e io mi arrischio allora prima bollettina con le quattro fisse me le arrischio così tottenham city x liverpool porto 1 e sono le due partite di martedì aias juventus x e united barcellona x sono difficili perché sono partite da tripla tendenzialmente da x2 le tre x sono da x2 e vabbè liverpool porto è da uno fisso però tutto può succedere quindi mi butto lì tre pareggi una vittoria casalinga che danno per scontato del liverpool sul porto voi fate fate vomis infatti con cinque euro se ne vincono 289,08 quindi è proprio molto ma molto arrischiata perché i bookmakers danno nettamente favoriti city liverpool juventus e barcellona seconda bollettina con le doppie tottenham city x2 liverpool porto 1 ajas juventus io mi arrischio l'1x ma è molto arrischiata perché ripeto la juventus resta favorita però l'ajas facciamo attenzione all'ajas perché è una squadra che batte in casa 4 1 il real madrid per quanto il real madrid possa essere in ambascio è sempre da tenere da prendere con le molle e infine united barcellona x2 con cinque euro se ne vincerebbero 16,25 terza bollettina tottenham city x2 piove 1 e mezzo liverpool porto 1 piove 1 e mezzo ajas juventus 1 x piove 1 e mezzo però volendo potete fare tranquillamente in stu e piove 1 e mezzo naturalmente la quota si abbasserà e united barcellona in stu e piove per 1 e mezzo con cinque euro se ne vincerebbero 37,04 se uno invertirebbe ajax juventus mettendo x2 temo che si scenda sotto i 30 però vedete voi perché se non erro è a 1,29 l'1 x2 piove contro l'1 e 60 dell'1 x piove non è una differenza enorme di me quarta bollettina tottenham city gol casa si liverpool porto gol ospite si ajas juventus gol casa si united barcellona gol casa si in questo caso scelgo il gol dell'ajas perché è pagato un attimino di più siamo lì però si cerca sempre di portare a casa qualcosina con qualche possibilità naturalmente che esca anche il gol con cinque euro se ne vincono 21 e 91 quinta bollettina quella che cominciamo a cominciano a diventare rischiose ma non troppo comunque tottenham city gol piove liverpool porto gol piove ajas juventus gol piove e united barcellona gol piove vi informo che i gol piove secondo i bookmaker sono favoriti addirittura united barcellona è favoritissimo il gol piove per quanto riguarda invece ajas juventus sono più o meno alla pari c'è una differenza di 0,05 quindi vuol dire che se ajas juve gol piove è dato a 3 il gol piove è dato a 2 95 quindi sicuro che è l'unica che il gol piovere è un po alla pari gli altri sono tutti favoriti quindi col gol piove di queste quattro partite con 5 euro se ne vincono 106,53 infine la bollettina folle ma neanche troppo visto le cifre che si vincerebbero perché di solito la tricombo si arriva anche a 3.000 qua siamo intorno al 1.200 con 5 euro quindi sotto i 1.200 non è proprio impossibile è difficilissima comunque tottenham city x più gol piove liverpool porto 1 più gol piove ajas juve x più gol piove e united barcellona x più gol piove con due euro se ne vincono 476,59 con 5 euro 1191,43 poi staremo a vedere quante ne azzeccherò ultimamente mi sa che lo scorso weekend non è andato benissimo ma ve ne parlerò successivamente perché dopo questo video farò il video del resoconto del campionato di serie a ma prima inserisco questo perché voglio che per domani mattina martedì mattina voi abbiate le mie schedine le mie bollettine da cui poi prendere spunto non copiatemi come vi dico sempre io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video ciao